1092 viene consacrata la cattedrale di Lincoln per 249 anni ritenuto l'edificio più alto del mondo 1386 viene ratificato il trattato di Windsor tra l'Inghilterra e Portogallo e la più antica alleanza diplomatica del mondo ancora in vigore 1662 ha luogo al Covent Garden di Londra il primo Punch and Justice Show 1671 il colonnello irlandese Thomas Blood tenta di rubare i gioielli della corona britannica dalla torre di Londra fu graziato da Re Carlo II 1860 nasce Sir J.M. Barry drammaturgo scozzese noto soprattutto per il suo lavoro Peter Pan 1874 nasce Howard Carter l'egittologo britannico che scoprì la tomba di Tutankhamen 1887 il Wild West Show di Buffalo Bill viene aperto a Londra 1896 la prima mostra di carrozze senza cavalli viene aperta all'Inghilterra Radio Institute di Londra quando vengono esposti al pubblico dieci modelli di auto a vapore 1904 la locomotiva a vapore City of Truro diviene la prima in Europa a superare le 100 miglia all'ora 1930 la Gran Bretagna nomina John Maysfield poeta laureato 1934 nasce a Leeds Alan Bennett attore e drammaturgo inglese 1936 nasce Albert Finney attore britannico 1941 seconda guerra mondiale il sottomarino tedesco U-110 viene catturato dalla Royal Navy a bordo c'era l'ultima macchina crittografica Enigma che i crittografi alleati in seguito usarono per decifrare i messaggi tedeschi in codice 1945 seconda guerra mondiale le isole del canale vengono liberate dagli inglesi dopo cinque anni di occupazione tedesca 1996 la camera dei comuni britannico a vuota per mantenere il divieto di prestare servizio nelle forze armate agli omosessuali l'imperto di in